agli stati uniti conviene ricorrere ad attacchi biologici contro la cina anzi non solo conviene ma è proprio l'opzione strategicamente migliore non certo l'unica ma la migliore la più efficace quella che può ottenere maggiori successi per capire questo però dobbiamo prima capire come viene formulata una strategia se non avrebbe senso dire qual è la migliore se non capiamo come si forma una strategia la cosa più importante da fare la prima cosa da fare è capire quali sono gli interessi in questo caso gli interessi nazionali dato che si tratta di uno stato gli interessi nazionali sono diversi non ce n'è solo uno sono diversi e spesso confliggiano tra loro e quindi hanno delle priorità diverse la prosperità economica non è l'interesse prioritario solitamente ma quasi mai l'interesse prioritario almeno per uno stato serio uno stato serio a molte altre priorità a molti altri interessi prioritari pensare che gli stati uniti agli stati uniti non convenga diffondere epidemia in cina per non scomodare la apple che ha fabbriche in cina o qualsiasi altra industria o anche per evitare una crisi economica mondiale non è non ha molto senso già nel 14 c'erano illustri economisti che dicevano cose simili dicevano che una guerra in europa sarebbe stata impossibile perché le economie nazionali erano strettamente interdipendenti tra loro agli stati uniti alla germania non conveniva una guerra contro l'inghilterra l'inghilterra non conveniva una guerra contro la germania però la storia ha dimostrato che così non era perché questo perché ci sono degli interessi molto più importanti oltre alla prosperità economica questi interessi quali sono ad esempio la supremazia militare ad esempio l'egemonia globale ma soprattutto la sicurezza nazionale la sicurezza nazionale l'interesse prioritario di qualsiasi stato per l'inter per la sicurezza nazionale qualsiasi stato serio è disposto a spendere miliardi e miliardi di dollari è disposto a far morire migliaia se non milioni di persone quindi pensare che la prosperità economica sia oppure la interessi di un'azienda come la apple siano importanti anche se la apple ovviamente è un'azienda molto importante siano però più importanti di un interesse nazionale come quello come la sicurezza nazionale è irrealistico allora il secondo punto quando si formula una strategia è capire quali sono le minacce all'interesse in questione allora qual è la minaccia alla sicurezza nazionale la più grande minaccia alla sicurezza nazionale statunitense sono gli statunitensi stessi a dirlo gli strateghi statunitensi la cina la cina è considerata la minaccia più grande alla sicurezza nazionale statunitense non solo al territorio statunitense non solo alla popolazione statunitense ma i valori stessi della cultura statunitense alla american way of life allo stile di vita americano alle istituzioni americane alle tradizioni americane i valori americani e la cina è la più grande minaccia tutto questo ora il terzo punto è capire come si può contrastare la minaccia al fine di tutelare promuovere i propri interessi come si fa ad esempio per eliminare la minaccia cinese ci sono in questo caso ci sono possono esserci diversi obiettivi però l'obiettivo più realistico è quello di fermare l'economia cinese perché la cina si sta espandendo globalmente proprio in virtù della sua del suo fortissimo sviluppo economico non certo per le sue armate o le sue flotte o per qualsiasi altra o per le sue alleanze semplicemente perché è la più grande superpotenza economica al mondo fermare la crescita economica cinese diventa quindi l'obiettivo prioritario degli stati uniti al fine di tutelare la propria sicurezza internazionale la propria sicurezza nazionale il quarto punto è capire come si può ottenere tale obiettivo allora tale obiettivo obiettivo può essere conseguito in diversi modi ad esempio con con la guerra con una guerra commerciale però una guerra commerciale non è sufficiente per fermare l'economia cinese non è sufficiente e poi isola l'economia stessa statunitense in ambito internazionale quindi si è utile ma non basta che cosa si può fare allora beh si potrebbe anche iniziare aprire una guerra vera e propria ma i costi sarebbero eccessivi i rischi sarebbero imponderabili perché potrebbe anche trattarsi di un conflitto nucleare quindi non è una buona strategia non è una buona opzione quella della guerra aperta invece un attacco biologico è in grado di distruggere l'economia cinese di metterla in ginocchio almeno di anzi non solo un attacco biologico più attacchi biologici con la peste suina africana magari con la viaria con con coronavirus con vari virus che potrebbero verosimilmente emergere in cina in questo modo si oltre a distruggere l'economia si destabilizza politicamente il paese che appunto un altro modo per fermare l'economia cinese sarebbe anche quello di destabilizzare politicamente il paese però non funziona troppo essendo il partito ben saldo al potere in cina ad esempio con hong kong o in xinjiang non è sufficiente per destabilizzare politicamente il paese invece un'epidemia sì come questa del del covid 19 quindi però bisogna considerare ancora una cosa i costi e i rischi di questa opzione allora quando si parla di costi bisogna anche considerare i costi di opportunità sì certo diffondere un'epidemia del genere ha dei costi per gli stati uniti stessi altissimi perché c'è il rischio concreto che l'epidemia finisca in negli stati uniti però è evidente che i costi saranno sostenuti molto di più dalla cina in cui l'epidemia e ha avuto luogo non solo costi economici molto più ingenti ma anche costi di immagine la cina verrà considerata come un paese sporco schifoso in cui le persone cinesi mangiano topi pipistrelli quindi si si distruggerà molto più l'immagine della internazionale che il mondo tutto ha della cina però parlando dei costi bisogna considerare appunto anche costi di opportunità perché lasciare che la cina prosperi senza intervenire se non con qualche con qualche dazio è molto 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 costoso perché così facendo tra dieci venti 30 anni la cina avrà un avrà le risorse economiche una flotta e un esercito tali da poter conquistare taiwan e gli stati uniti che cosa faranno potranno fare due cose o dichiarare guerra alla cina e si tratterà di un di una cosa molto costosa e molto rischiosa oppure lasciare taiwan al suo destino e in quel caso il costo di immagine di credere di credibilità statunitense sarebbe enorme quindi è molto più costoso e molto più rischioso lasciare le cose così come sono che diffondere un'epidemia quindi sì agli stati uniti conviene diffondere l'epidemia in cina tenendo anche conto del fatto che l'opinione pubblica mondiale non ha senso critico quando si tratta di epidemie ma non solo l'opinione pubblica gli scienziati stessi quindi anche i giornalisti per loro se un'epidemia può essere naturale allora lo è di sicuro quindi conviene davvero tanto ricorrere ad attacchi biologici nascosti che potrebbero essere verosimilmente naturali perché tanto nessuno sospetterà è praticamente una cosa a rischio zero oltre al fatto che è estremamente difficile poi lascia che qualcuno trovi le prove dell'attacco biologico quindi è una cosa che non ha nessun rischio non costa praticamente nulla e si ottengono dei benefici immensi si difende la propria si difende la propria sicurezza nazionale dalla minaccia più grande senza incorrere in rischi particolari e certo si potrebbe causare una crisi economica mondiale però abbiamo già detto che uno stato serio è disposto a sacrificare la propria economia quando entrano in gioco gli interessi nazionali quindi si agli stati uniti conviene ricorrere ad attacchi biologici contro la cina sicuramente